Musica 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 scavare sopra la testa, andiamo qui magari, oddio, qua c'è una bella grotta, perciò ce l'esploriamo, qui tanto altro ferro, ok, no non lo prendo, mi è passata la voglia, qui altra lava, no beh si chiude, allora direi di andare verso l'alto, scavarci verso la superficie, ok dove siamo finiti, vabbè, aspettate che vi metto le torce, visto che nello scorso episodio ci sono lamentati, che era troppo scuro il video, ok in questa parte qua non l'abbiamo mica esplorata, abbiamo soltanto 20 torce, però magari ne facciamo altre, ok qua si va verso l'alto, o direi di uscire da sta grotta, andiamo a che attenzia siamo, 54, forse ma ci siamo anche, ok sente un ragno però non so da dove viene, ok ecco qui la nostra superficie, cosa sta facendo, giorno o notte, sembra giorno, si, ok guardate non ci siamo neanche allontanati più di tanto, infatti là c'è, l'entrata della grotta iniziale era lì, ok lì c'è un creeper, non mi ha visto perciò, shabam, via 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 via, ok salvi, qua intanto è pieno di pecorelle, noi le pecore ci mancherebbero a casa, allora ora che le portiamo fino a casa nostra, olè, qua cosa c'è, una festa in piscina? Ok, sei calmo però, va bene, comunque sta vicino, qua in casa noi ci mancano le pecore, però ora che le portiamo fino a là, Marico viene a recuperare quelle che abbiamo là vicino a casa nostra, e anche qua c'è anche un uovo, ok, andiamocelo, no ovviamente abbiamo l'inventario pieno, comunque adesso ce ne torniamo a casa, le coordinate non me le ricordo, cross improvvisa dai, oddio la terra dei creeper questa, e che è, oh, cioè stai calma, state calmi anzi, siete in 10.000, beh io vi faccio parkour su sugli alberi, io ne torno a casa, no, beh, a casa non ci posso tornare facendo parkour, ok, va bene, cerchiamo di ricordarci dove è a casa, lì ci sarebbe un'altra grotta, allora, noi eravamo arrivati mi pare dall'altra parte, oddio è figata, un arco, no, bisogna mangiare, io non mi ricordo adesso precisamente da dove eravamo arrivati, però mi sembrava via di qua, no, forse no, non eravamo mica entrati qua, mi pare, no, o sì, no, 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 dai, no, comunque dai, torniamoci in a casa, là c'è un blocco random in cello, ma questa parte qua non mi sembrava di averla già vista, oddio, adesso dove andiamo? si esplora random, perché è inutile secondo me andare a esplorare un'altra grotta, ovviamente abbiamo anche l'inventario pieno, vabbè, adesso vado un attimo a controllare le coordinate e poi andiamo, ce ne torniamo a casa, ok, appena controllato, noi dobbiamo andare a 193,633, 68 d'altezza, vabbè, non ci interessa, e 307,393, dobbiamo andare via di là e raggiungere 303, dobbiamo, vediamo se, Mario, abbiamo fortuna, ne troviamo qualche posto che avevamo già visto, le torce che avevamo piazzato ultimamente, forse, sì, qua mi sa che c'eravamo passati, sì, qua c'eravamo passati, ok, allora forse adesso riusciamo a ritrovare almeno parte della strada, vediamo, scusate, un attimo qua ci sono le scritte, adesso le rimuovo, no, qua stiamo andando, ok, qua siamo giusti, se non ero via di là ci sono delle torce, adesso non le ho viste, però mi sembrava, se siamo giusti mi sembrava di averle piazzate via di qua, eccola qua, infatti, mi ricordavo, ok, siamo giusti, perciò ritorniamocene a casa, sì, però se magari mi farò passare quegli alberi, ok, qua c'è una torcia, forse dobbiamo andare verso quella montagna là, quella è la nostra isoletta, no, non mi pare, dai, non mi sembra che sia quella nostra, ok, volevo raccogliermi la neve, un po' di neve, così magari ci possiamo fare il nostro pupazzo di neve a casa, ok, lo slot abbiamo in, ok, no, eccolo là, mi sa che ci siamo arrivati a casa, sì, un po' più indietro, comunque, eccola qua, finalmente arrivati a casa, finalmente, si deve ancora finire tutta la roba, ma ci siamo arrivati, e adesso direi di realizzarci un portone di ingresso, qua, che può sempre servire, però qua c'è il portale, giusto, ecco qua, però ci potrebbero essere le scale, boh, proviamo a scavare qua, a vedere, non c'è le scale, ok, finalmente a casa, ok, qua direi di scavarci il nostro portone, ci sarebbe forte fare una roba tamarissima con pistoni, però ci servono quegli abicicosi e non abbiamo trovato slime per nostra sfortuna, comunque possiamo fare delle porte in ferro, proprio anti-zombie al massimo, ok, perfetto, ok, adesso impiantiamo così un attimo, anzi, mi sa che, eh, non so come vanno ad impiantare, no, ho sprecato un seme, questi qua, eh, non so cosa siano, eh, comunque, adesso i semi di anguria, eh, mi sa che servono due spazi, perciò così, e quindi devo impiantarne tipo così, tipo qua, cioè questo qua è molto accennato, cioè è il stesso piano delle carote, comunque, adesso lo porterò su, appena riuscirò, qua non abbiamo le ossa, no, quindi bene nerd, per questo episodio è tutto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi, e adesso vedremo cosa faremo nel prossimo episodio, vi consiglio di iscrivervi al canale di Liene Style, che sono dei miei amici, e comunque, che in futuro, Mari ci farà anche delle collaborazioni, e loro, e si tratteranno quasi esclusivamente Nintendo, e vi consiglio andare a vedere il loro primo video che è uscito, è appena uscito, in pratica, e dovrebbero caricare circa un video a settimana, quindi bene nerd, per questo episodio è tutto, iscrivetevi, mi raccomando, ci si ribecca al prossimo video, bella! Ciao!